E' certamente un segno incoraggiante, sintomo di lento ritorno alla normalità, una struttura espositiva che riapre i suoi portoni per ospitare mostre ed accogliere visitatori e turisti. E' quanto ha deciso di fare Fondazione Carifano con le sue strutture museali e culturali. Proprio tutto come prima non sarà, però perché Palazzo Bracci Pagani, Pinacoteca San Domenico e Lago Vicini, ritorneranno frequentabili, ma solo secondo i precisi canoni di sicurezza che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere. A Palazzo Bracci Pagani aprirà solo la Diana Art Gallery, al Piano Nobile, dove dal 20 al 2 augusto verrà allestita la mostra di Giuseppe Papagni, fragili. Nel segno della continuità dei precedenti protagonisti passati da Palazzo Bracci Pagani, anche per Papagni è forte il legame col territorio. Appartenente alla corrente del fragilismo, un movimento artistico che nasce a Vicenza nel 2010, l'artista è scultore, pittore, studioso, docente e restauratore nato a D'Ancona nel 1940 e ha intrapreso gli studi per la ceramica, la scultura e la pittura negli istituti d'arte di Pesaro e di Faenza, oltre che nell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Da sabato 20 si potranno visitare le sei sale espositive del Piano Nobile, allestite con le sue opere, massimo 5 persone per volta, assicurando così le giuste distanze di sicurezza, dopo che uno steward avrà rilevato ad ognuno la temperatura corporea. Per quanto riguarda la mostra che era in programma di Maggini? La mostra fisica è stata annullata per ovvi motivi, ma non rinunciamo alla realizzazione del catalogo che era già stato programmato. Opteremo per una mostra virtuale, una mostra virtuale che sarà realizzata attraverso un video che potrà essere poi fruibile sia nel nostro sito che anche successivamente quando sarà possibile riorganizzare qualche conferenza stampa, qualche incontro. apriranno anche Pinacoteca San Domenico, dove però non si terranno i famosi concerti domenicali, al momento sospesi, e anche il Lago Vicini, meta didattica delle scolaresche, che sarà visitabile dal 13 all'11 luglio, previa prenotazione telefonica.